Con il notaio Giorgia Manzini oggi parliamo del progetto del notariato per risolvere il problema della provenienza donativa degli immobili in Italia. Dottoressa Manzini, perché è così pericoloso per l'acquirente di un immobile che il venditore abbia ricevuto il bene per donazione? Perché la donazione nel nostro sistema non è considerata una provenienza stabile, cioè è un atto che può essere impugnato secondo determinate regole entro termini molto lunghi. Dunque chi acquista da un venditore che ha ricevuto per donazione può essere esposto al rischio cosiddetto dell'evizione, cioè di perdere il bene perché gli eredi legittimari del donante potrebbero impugnare questa donazione con l'azione di riduzione, ovvero l'azione di restituzione contro i terzi acquirenti. E dunque è evidente il vulnus nell'interesse generale alla commerciabilità dei beni immobili. Le banche stesse quando vedono una donazione fra le provenienze degli immobili che devono essere concessi in ipoteca dei nostri acquirenti mutuotari si bloccano e valutano la situazione caso per caso. Quindi in fin dei conti questa super tutela della famiglia è un danno per la collettività? Per la collettività diciamo che è un'ottica un po' superata, un po' anacronistica perché ricordiamo che questi soggetti, i futuri eredi legittimari che sono per legge il coniuge e i figli e i genitori in assenza di figli non possono rinunciare alle loro aspettative finché invita il donante nemmeno se sono assolutamente d'accordo. E dunque è una tutela che va un po' contro la volontà sia del donante che dei nostri eredi legittimari. Ricordiamo che in altri paesi europei queste aspettative sono rinunciabili a tutto vantaggio della circolazione della ricchezza che a sua volta crea ricchezza. Dato che di donazioni di immobili ne sono state fatte quali sono i rimedi per poter rivendere il bene. Ricordiamo che in Italia il successo di alcuni strumenti giuridici di certi contratti viene determinato spesso dagli aspetti fiscali e quindi la donazione nei primi anni 2000 è stata completamente detastata. Poi sono state introdotte le imposte con aliquote che rimangono in Europa comunque molto basse solo e per certi soggetti, cioè l'imposta di donazione viene calcolata in base al grado di parentela tra il donante e il donatario. Ci sono delle franchigie altissime in Italia, fra i genitori e i figli c'è una franchigia di un milione di euro che per gli immobili si considera sul valore catastale a soggetto sia nelle donazioni che nelle successioni. Sono due discipline che corrono parallele dal punto di vista fiscale. Quindi di donazioni se ne sono fatte tante, è un atto legittimo previsto dal codice civile. C'è questo rischio, questa alea della futura impugnativa degli eredi legittimari del donante che può rendere più difficile rivendere il bene. Quali sono i rimedi che la prassi notarile, la dottrina civilistica ha individuato in questi anni in attesa di una riforma? Sono il ricorso per esempio al mutuo dissenso della donazione. Si scioglie il contratto precedente che viene eliminato dal mondo del diritto, ma ci sono criticità giuridiche, quindi non è esente da critiche questa soluzione. Le assicurazioni hanno inventato delle polizze ad hoc proprio per tutelare il terzo acquirente dal rischio di perdere l'immobile. La polizza donazione sicura, la polizza donazione facile che hanno avuto una certa diffusione. Oppure i notai hanno elaborato delle clausole di garanzia di evizione rafforzata. Tutte queste soluzioni fanno un po' acqua in attesa di una riforma organica del sistema normativo. Dottoressa Manzini, ma se parliamo di soluzioni a lungo termine, quali sono le proposte del notariato per risolvere definitivamente il problema delle donazioni? Il notariato ha elaborato un progetto di riforma che va dalla riconfigurazione della quota di legittima, che è questa quota che i soggetti, gli eredi legittimari ereditano, è intangibile, non è rinunciabile finché è in vita il donante. Ora viene vista, è una parte del patrimonio del defunto, potrebbe essere invece ricondotta a un diritto di credito e così si supererebbero molti problemi. Inoltre potrebbe essere limitato o abrogato il divieto dei patti successori, almeno di quelli rinunciativi. È nullo nel nostro sistema ogni patto con cui si rinuncia a un'eredità che non sia ancora aperta. Ecco questo è un limite alla circolazione della ricchezza, che tutela sicuramente la famiglia, però potrebbe essere reso più attuale per la complessità del mondo moderno. Ricordiamo che l'ultima riforma in questo settore è avvenuta nel 2005 con la legge 80, è stato introdotto un termine di vent'anni dalla trascrizione dell'atto di donazione, decorso il quale la donazione non è più impugnabile con l'azione di riduzione, ovvero con l'azione di restituzione contro i terzi acquirenti. È stato però previsto anche il diritto di opposizione dei nostri futuri eredi legittimari, del coniuge e dei parenti in linea retta del donante, che possono quindi porre nel nulla questo termine del ventennio. E' stata addirittura prevista la rinuncia espressa a questo diritto di opposizione che fa valere il termine dei vent'anni, però capiamo bene che è un intervento legislativo limitato, settoriale, che non ha risolto il problema. Vent'anni sono comunque un termine lungo, meglio di niente perché prima il termine ordinario entro il quale si prescrivevano queste azioni è di dieci anni dalla morte del donante, quindi capiamo un termine lunghissimo. Il notariato presenta periodicamente progetti di riforma affinché il Parlamento possa elaborare una normativa organica che risolva questi problemi e si possa sbloccare la commerciabilità di un patrimonio immobiliare che attualmente in Italia è limitato dalle provenienze donative.